ho due mazzi di carte in questo mazzo c'è una previsione e lo lascio in vista qui in quest'altro mazzo di carte tra poco te lo consegnerò e ti chiederò di fare una semplice azione eccolo mettilo dietro la schiena senza girarlo di faccia sfoglia le carte e liberamente scegline una qualsiasi la rigiri sotto sopra quindi a faccia in alto e la rimetti all'interno del mazzo quando hai fatto taglia il mazzo e completa l'alzata anche il mazzo grazie ok io non voglio fare niente è fatto tutto quanto tu io apro solo le carte così sul tavolo e ti faccio vedere la carta che tu hai scelto che carta l'otto di cuore qui in questo mazzo c'era una previsione vediamo se la previsione combacia ecco le carte apro anche questa come puoi vedere la previsione combacia esattamente ma non è finita qui perché è notamente sicuro che avessi scelto l'otto di cuore che guarda questa è l'unica col dorso rosso e quella del mazzo col dorso rosso è l'unica con il dorso buon 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 buon